In questo video parliamo di matrici, un oggetto matematico che viene usato in vari campi. L'uso più conosciuto è sicuramente quello associato allo studio dei sistemi lineari, ma possiamo trovare le matrici anche in altri contesti, anche non puramente matematici, ad esempio nello studio e analisi dei social network, ma anche nella manipolazione delle immagini fotografiche. Ed è proprio di questo ultimo aspetto che voglio parlarvi. Voglio mostrarvi come nella computer grafica, e in particolare nell'editing di immagini, le matrici ricoprono un ruolo cruciale. Quello che farò sarà quindi un viaggio breve, ma intenso, nel mondo delle matrici, attraverso l'elaborazione delle immagini. Per prima cosa desidero mostrarvi come un calcolatore, che può essere la mia macchina fotografica, il mio smartphone o il mio computer, rappresenta un'immagine fotografica. Il processo che sta alla base di tutto è la digitalizzazione. Quando scatto una foto, la luce viene catturata dal sensore e viene convertita in formato digitale. Cosa significa? Significa trasformare la luce catturata dalla fotocamera in pixel, seguendo diverse fasi. Per darvi un'idea, fatemi prendere un'immagine delle vacanze. Faccio uno zoom e continuo a farlo, finché l'immagine si sgana così tanto da poter distinguere perfettamente i quadratini che la compongono. Questi quadratini si chiamano pixel, e in qualche modo possiamo dire che essi sono gli atomi delle immagini digitali. e ogni pixel è caratterizzato da un solo colore. Ora, per capire meglio come le matrici entrano a far parte di questo mondo, devo fare un inciso sul colore. O meglio, su come il colore viene rappresentato nei calcolatori. Cosa significa? Che così come l'atomo si può spaccare in protoni, neutroni, elettroni, anche il colore, fatemi dire, si può spaccare. Uno dei modi più comuni e forse più conosciuti per farlo è la scomposizione RGB, cioè il colore visto come una combinazione di rosso, verde e blu. Ad esempio, questo pixel è composto da questi tre valori. Il discorso fatto su questo pixel può essere esteso a tutti gli altri, e quindi ogni pixel può essere esploso in tre numeri, che chiamiamo componenti. Questa rappresentazione è poco leggibile. Posso renderla chiara disponendo diversamente le componenti. separo le componenti su tre tabelle diverse, ciascuna di queste tabelle in matematica si chiama matrice. Ecco, finalmente siamo arrivati alle matrici. Queste tre matrici rappresentano i cosiddetti canali dell'immagine. Considero la matrice del canale rosso, è formata da tre righe e tre colonne, e i numeri che la compongono si chiamano elementi, e si indicano con le loro coordinate. Quindi, questo sarà l'elemento 1,1, cioè prima riga, prima colonna, mentre questo sarà l'elemento 3,2, terza riga, seconda colonna. E questi sono gli elementi sulla diagonale. Bene, finora vi ho raccontato come le matrici vengono usate per rappresentare le immagini, ma c'è un altro aspetto delicato da considerare. Ossia, il valore massimo che una componente può avere è 255. Ma perché? Non vi do la spiegazione, ma vi invito ad indagare sui libri e in rete. Ora che so qual è la struttura matematica di base di un'immagine fotografica, provo a manipolarla. Sono sicuro che la maggior parte di chi fa editing non usa le matrici, ma vi assicuro che conoscere questi dettagli può fare la differenza quando si è accorto di idee e si vuole essere creativi. Allora, facciamo un'operazione che vuole solo essere di ispirazione per la vostra creatività. Prendiamo due immagini e proponiamoci di sottrarle. Facciamolo usando un software di grafica. Ma sottrarle graficamente corrisponde esattamente a sottrarre le due matrici, cioè sottrarre le componenti corrispondenti. Vi mostro quest'operazione in un dettaglio delle immagini. Ho 3x3 pixel per ognuna, scompongo nei tre canali, ed ora sottraggo le matrici corrispondenti al canale rosso. Quindi sottraggo gli elementi 1,1 delle matrici R1 ed R2, e così via. Ottengo questa matrice. Ripeto l'operazione per i canali verde e blu, ed ottengo le tre matrici che rappresentano i tre canali della sottrazione. A questo punto rimetto insieme i canali e questo è il risultato. Interessante, no? In maniera simile funzionano anche altri comandi per operare sulle immagini, ad esempio applicare un filtro. E le matrici ricoprono un ruolo ancora più incisivo, perfino quando decidiamo in che formato salvare l'immagine. Certo, forse non userete mai queste informazioni per applicare il vostro filtro preferito su Instagram, o per ritoccare il vostro ultimo selfie. Ma se vi hanno commissionato un lavoro di editing particolarmente elaborato, sapere che le matrici sono la struttura di base delle immagini sarà sicuramente una marcia in più per voi. Grazie a tutti.